buongiorno e buona giornata a voi tutti cari amici dal vostro nicole de lucia in fase di recupero dall'influenza non grave ci mancherebbe bene sono qui quest'oggi per parlare della coppa italia il quadro completo dei quarti di finale quindi la coppa italia entra come si dice nella creme della creme nel vivo si partirà il 21 gennaio con napoli lazio alle 20 e 45 milan torino il 28 gennaio alle 20 e 45 roma juventus il 29 gennaio alle ore 18 inter fiorentino il 29 gennaio alle ore 20 e 45 ovviamente già questo è un primo passo verso lo slancio diciamo alla fase caldissima alle semifinali che poi diciamo evolverà la situazione con appunto le due finalisti comunque i pronostici sono apertissimi per tutte le partite del resto ci sono le migliori squadre insomma beh ci piacerebbe ogni tanto avere ai quarti qualche sorpresa magari dalla serie b però comunque va diciamo ce ne sono state alle 8 il perugia la cremonese bene grazie a tutti per l'attenzione io vi ricordo che domani ripartirà il campionato con un nuovo turno è il primo di ritorno se non vado a rato ci vediamo per l'occasione del campionato per qualche partita sicuramente per quella del milan vediamo se per l'inter o la juve o vediamo un po' grazie a tutti alla prossima ciao ciao